Dove sei stato? Sto parlando con te. Hai visto che ore sono? Sarei stato in giro a fare il porco con qualche turista, come sempre. Sono stato a parlare con una ragazza. Ah! A parlare. È stato bellissimo. Sai quando due persone comunicano veramente? Ma che ne sai te? E chi sarebbe sta ragazza? Una persona stupenda, veramente. Molto profonda. E che ne sareste comunicati di così profondo? Lascia perdere che è meglio. Io sono una persona dolce, sensibile, carina. Va bene? E chi ti ha detto niente? Non vedi che non mi stimi? Tu non mi stimi. Io per te non esisto. Esistono solo tua sorella e quel fenomeno di tuo cognato. Io valgo di più. Io mi merito di più. Lo sai che ti dico? Basta. Fine dei giochi. Ognuno si prende le responsabilità sue. Ognuno si prende le responsabilità sue? Va bene. Che vuol dire? Che per dare retta a te ho aperto la profumeria. Per dare retta a te mi sono indebitato con quel cravattaro di tuo cognato. Il cielo parla piano. Per dare retta a te ho rinunciato al mio talento. Per dare retta a te ho rovinato la vita mia. Per te, per te, per te, per te, per te, per te. Maledetta vita mia. Dio, sei proprio un ragazzino. Sì, sono un ragazzino. E lo sai perché? Perché c'è un'anima fresca, vitale. Io sono capace ancora di passare una notte a parlare con una sconosciuta. E tu? Tu no. Tu sei invecchiata dentro. E questo ti rode. Povero cretino. Quanto tempo sprecato. Quanta fatica inutile, Marcella. Mi fai pena. E mi faccio pena pure io.